L'amministrazione regionale crede nella crescita di questo territorio, lo crede convintamente perché in questi anni abbiamo aumentato in modo esponenziale gli investimenti pubblici dedicati a tutto il sistema regionale, con un occhio particolare alla parte produttiva, perché questo territorio dimostra ancora una volta come gli aumenti in termini di PIB, di occupazione e di export siano davvero rassicuranti e anzi segnino un'ulteriore crescita nel 2024. Siamo convinti dell'importanza quindi di sostenere i settori con investimenti mirati per favorire le infrastrutture, la logistica ed anche dal punto di vista della zona logistica semplificata favorire l'alleggerimento autorizzatorio burocratico ed altresì l'incentivo fiscale. Questi sono alcuni degli elementi importanti che abbiamo messo in campo in questi anni, che continuiamo a sostenere anche grazie alla messa a terra di importanti risorse attraverso le Camere di Commercio che sono un motore attivo sul nostro territorio per le politiche regionali.